Quasi un sardo su 5 nel 2021 ha rinunciato a curarsi per ristrettesse economiche e per difficoltà di accesso alle cure. Una percentuale allarmante rilevata dall'ANAP Sardegna, l'associazione dei pensionati artigiani di confartigianato, che ha interpretato i numeri del dossier realizzato da Confartigianato Imprese Sardegna su dati Istat. A preoccupare ancora di più è l'aumento costante del fenomeno. Nel 2017 la percentuale era del 12,5%, salita al 14,8% nel 2019, per salire ulteriormente al 18,3% nel 2021. Una percentuale che porta la regione al primo posto in Italia per cittadini che hanno rinunciato a prestazioni sanitarie pur avendone bisogno. Tra le categorie più colpite i disoccupati, ma anche gli anziani e pensionati con entrate minime, le famiglie monoreddito e i lavoratori con salari così bassi da non potersi permettere l'acquisto di medicinali di cui hanno bisogno. L'esempio più lampante viene dalle cure dentali, cui sempre più persone rinunciano, anche perché l'odontoiatria in Italia è prevalentemente privata. Anche l'Uefar privato è in calo. Nel 2021 il valore pro capite della spesa sanitaria privata si è ridotto da 491 a 458 euro l'anno e le famiglie italiane hanno dovuto rinunciare complessivamente a quasi 7 milioni di prestazioni mediche private. Per contro è aumentata negli anni la spesa media delle famiglie che pagano di tasca propria, esami diagnostici e visite specialistiche, farmaci, accesso al pronto soccorso e visite domiciliari. Un quadro preoccupante che, secondo la presidente Diana Psardegna, Paola Montis, necessita di interventi urgenti a partire dall'utilizzo dei fondi provenienti dal PNRR. Poi, continua Montis, è necessario ridurre i ticket per tutte le fasce, scongiurare i futuri tagli al Fondo Sanitario Nazionale e governare seriamente i tempi di attesa di tutte le prestazioni sanitarie.